Su una ragazza che si allena è ovvio che ho più completi da palestra che vestiti normali. Infatti quando devo uscire normalmente non so mai cosa mettere. Su una ragazza che si allena è ovvio che lavo i capelli quando faccio gambe, tipo oggi. Su una ragazza che si allena è ovvio che a casa mia non potranno mai mancare riso basmati già pronto e yogurt greco. Su una ragazza che si allena è ovvio che ho sempre qualche dolorino e qualche doms e dovrei fare più stretching ma non lo faccio mai.